Vedrete dalle cifre già finanziate quali sono i lavori che l'ASL mette in campo nell'area del Pionta. Ma l'equilibrio urbanistico, il decoro urbano, l'inclusione dell'area del Pionta all'interno della città di Arezzo è un obiettivo del Comune di Arezzo, dell'Università degli studi e della provincia. E solo all'interno di un quadro organico e sistematico l'obiettivo complessivo può essere raggiunto. Però siccome l'ASL deve fare il proprio, e quindi io ho chiesto a Valeri di mettere in pista una serie di interventi mirati che evidentemente hanno per oggetto la componente sanitaria. Non interviene minimamente nelle aree degli obiettivi che sono invece condivisi dalle istituzioni che con noi hanno delle proprietà all'interno del Pionta.